Scarsa illuminazione stradale a Cremona, dove molti degli incidenti sono causati dall'assenza di pali della luce che garantiscano un'adeguata visibilità ad automobilisti e pedoni. È emblematico in tal senso il caso di Via Milano, dove il palo fu sradicato in un incidente datato oltre cinque anni e non è ancora stato sostituito nonostante le molteplici segnalazioni. La situazione sta in questi termini. Da più di cinque anni, causa un incidente stradale, hanno battuto la pallina segnaletica e il palo che sorregge la lampada che illumina il passaggio pedonale. Appunto, sono trascorsi tutto questo periodo di circa più di cinque anni e la cosa sta ancora in questa situazione. È una via, diciamo, un'arteria molto trafficata e adesso che le giornate si accorciano, alla sera, diciamo così, se non abbiamo illuminato il pedonale, diventa una cosa abbastanza critica, sia per i pedoni ed anche per gli autisti, diciamo così, i conducenti di veicoli. Questa strada è poco illuminata, specialmente in prossimità del passaggio pedonale. Poi i mezzi vanno molto forti e quindi vediamo di quelle scene un po' da brividi. Situazione analoga a Largo Moreni, la cui carreggiata sinistra è sprovvista del palo della luce da quasi tre anni. All'ultimo dell'anno del 2020, un conducente con l'auto fionda sul palo che illumina il passaggio ciclo pedonale e lo butta a terra. Da allora ho iniziato a segnalare il 12 gennaio del 2021 chiedendo l'ostituzione, come mi sembra una cosa abbastanza ovvia, insomma, in fatto di sicurezza, eccetera. Da subito mi dicono che sono in attesa del materiale di scorta, che non hanno magazzino. Sono trascorsi ormai quasi tre anni e siamo ancora senza palo. Il passaggio ciclo pedonale è molto frequentato e siamo in questa condizione. La scarsa illuminazione è quella che fa, perché diciamo il conducente, specialmente nella penombra, che se non trova un qualche cosa, che gli segnali, man mano che si avvicina un attraversamento pedonale, in questo caso ciclo pedonale, non se ne la vede.